prima in classifica un giovanissimo grasshopper nato un po' dalle ceneri della squadra che ha rischiato la retrocessione e lo scorso campanello in avanti poi competenza di Dimsti vise ha vor seiner Zeit bei Servet bei Coimbra gespielt questo ball si è molto più veloce passi passi è successo! Outer ball al Tréon, Daniel! Giaovic è successo! In la 15. e 27. minuto in der 1. halbistronde ha il terzo senzio in l'Arena un'eigno in un 1. passaggio. Ci vediamo che tutti i miei posti sono stati riusciti. Il Javic è stato preso in un'altra parte. Ma ora è solo in un'altra parte, questo 2-0 in una pausa. Nilo Di Marco e la Cina City I due o tre minuti è un vero che in questo momento in quello di Nilo Se avessi come potuto E' un'offerto Alla prossima Tutto tutto l'alto. Dopo questo abbiamo già detto, che Michel Dekastell ha davvero più opzioni. Ora Gavranovic! Però poi si propone il cileno in zona offensiva. Entra la tre quarta Luzunico, il cross. Colpo di testa di Pimstein, anticipo su a Marco Strella. Sauro. Lancio lungo dell'Argentino. Una zona dove però non c'è nessuno di testa. Dimsti per Glarner. Bedà, Dimsti. Avanza il numero cinque. Passaggio in approfondità per Glarner, che rincorre il pallone, poi di tacco riesce... ... ... ... ... ... Bobadillo. Es gibt beim Tua-Faul. Der Platzhelfer der Zürcher wird es den Gästen zugestehen. Wir können etwas dicht machen. Wiratsby mit Tocs. Tsim Citi La via Zürich per la FCL Un porno Una stagione e una stagione Un solo un tipo di mai di una stagione Un entusiasmo Il giro il giro. Il giro un'ottico stile. Il giro si è avuto il giro. Si vedete, sono il giro il giro. Il giro il giro. Il giro è perduto l'anno. Adesso provo il giro il giro con la pace. E questo non è difficile. Lairovic, molto bene la Intervenzione di Gim City. Gieva anche un po' santo. Cermitti a la una parte, il Khalifa a la parte. Grazie per l'interno E' un'erroberto di Jim City E' un'erroberto che il giusto che il giusto Il giusto che il giusto, se non più, è ancora più Tremlíkis. E il Jairovic. Potete il pressione per la retta. Il campo più difficile dell'intera Superliga. Uno 0-0 contro il La Grasoper, un altro 0-0 con Andar Dragovic. Stoker prova lo scambio con Degen, ci riescono due nuovamente una serie di passaggi interrotta per Frey. Di prima sulla corsa di David Degen. Possibilità per il Basilea, traversone respitto. Smista verso David Degen. Ha spazio il numero 7 che può andare ad aumentare la propria accelerazione. Bello il dribbling ai danni di Benito, ma si allunga troppo la sfera e non elude l'intervento di Imsti. Adesso la numero 5 riceve comodamente da Ada Costa. Con la moglie e con la figlia. Am 4. November, la FC Zürich, qui in l'Arena, 4-1 è successo. Il primo è successo. Il primo è successo. è stato un solo Doppelpack di Sanmin in la Super League Raifeisen.